Allora, adesso cambiamo un po' argomento, così rilassiamo un attimo la mente o facciamo lavorare parti diverse della mente, che è diverso, e cominciamo a parlare di basi dati. Non di basi dati, ma di come possiamo integrare all'interno del nostro programma, della nostra applicazione in Java, l'accesso alle basi dati. E questo lo faremo andando a studiare la libreria JDBC, che è la libreria in cui in Java si fanno queste cose. Perché facciamo questo? Per permettere ai nostri programmi di poter lavorare con dei dati A realistici e B significativi, cioè poter, se hai una grande quantità di dati da lavorare, non è che te li scambi in formato Excel, che poi tra l'altro da Java diventa complicatissimo da leggere. Cerchi di fare in modo che questi dati vengano riportati in un DB relazionale, che poi è lo standard per qualunque tipo di applicativo gestionale, e poi puoi questi dati leggerli, modificarli, aggiungerli, quindi gestire qualunque quantità di dati in modo, tra l'altro, indipendente dall'applicazione, nel senso che se poi il programma lo chiudi, i dati rimangono all'interno del database, oppure potresti avere programmi diversi che usano gli stessi dati. Quindi è il modo sano e solido di gestire i dati, quello di mettere i dati in un database e far sì che il programma si carichi in memoria solamente i dati di cui ha bisogno nel momento in cui ne ha bisogno e il resto lo lasci memorizzato permanentemente dentro il database. in realtà avremo due, dovremo poi chiedere, prima di tutto dobbiamo imparare, diciamo così, i primi passi su come agganciarsi al database, come fare le query in SQL da Java. Poi cominciamo a guardare avanti, avremo due modi di lavorare con i dati, non sempre possibili entrambi, non sarà sempre possibile scegliere, però la domanda ce la dovremmo fare. Se io ho dei dati in un database, che ne so, studenti, esami, corsi, immaginate un qualunque database di questo genere e devo farci delle elaborazioni. Opzione 1, prendo tutti i dati, li leggo tutti dentro delle liste in Java e poi lavoro con le liste o con le strutture dati anche un pochino più furbi. Quindi acquisisco i dati in modo massivo dal database e poi lo elaboro direttamente dal programma. Opzione 1. Opzione 2, cerco di mantenere i dati il più possibile nel database e vado a leggere, a fare delle interrogazioni mirate per leggere solamente i dati che mi servono. queste due soluzioni ovviamente hanno entrambi pro e contro, che poi però dovremmo vedere di caso in caso. Leggere tutti i dati all'inizio e poi elaborarli, ovviamente occupa più memoria in Java, perché devi in Java avere tutti i dati memorizzati, richiede un tempo di avvio maggiore al programma, cioè quando il programma parte deve leggere tutti questi dati e poi a quel punto dal punto di vista algoritmico sei da solo. Cioè tutto ciò che devi fare con quei dati te lo devi fare lavorando tu con le strutture dati in Java. E quindi magari alcune cose sono complicate da fare. Ma in compenso avendo tutti i dati di memoria sono velocissimi da modificare, da operare, perché alla fine leggere i dati significa fare un accesso in memoria. Un accesso in memoria sono 20 nanosecondi, pensando su un hardware moderno. Se invece i dati li tengono nel database e quindi ogni volta che il programma ha bisogno di un dato lo chiede al database, ovviamente il programma Java non occuperà grandi quantità di memoria, perché non si va a leggere tutti i dati, si va a leggere solamente il singolo dato, il singolo piccolo blocchettino di dati di cui ha bisogno in quel momento, non tutti. Quindi occupo meno o meno memoria, non ho un ritardo in fase di avvio, perché non devo come prima cosa leggere tutto, ma semplicemente leggerò un pezzettino per volta quando mi serve. potrò chiedere al database, usare, diciamo così, la potenza del database. Cioè immaginate di avere, che ne so, un elenco in Java, una lista di studenti, una lista di corsi e all'interno del corso sai quali studenti sono iscritti. Trovami quali sono gli studenti che sono iscritti ad almeno tre corsi. E dimmi quali corsi, eccetera. Una cosa di questo genere. Allora, si può fare, però c'è un pochino da impazzire con le liste, cicli annidati, cose di questo genere. Dove in SQL fai select, count numero di corsi, where, having numero maggiore di tre. Cioè usi SQL per fare le join, i confronti, gli ordinamenti, le aggregazioni, che è la ragione per cui SQL è stato inventato. Quindi riesci a far, a non solamente chiedere i dati grezzi al database, ma chiedere al motore SQL di analizzare, di estrarre già l'informazione che ti serve. Quindi hai una visione, una vista molto più ad alto livello dei dati. Non è solo il dato come tabella, come lista, ma è una lista intelligente. Puoi fare join, puoi fare where, puoi fare ordinamenti e farli fare al database. Lo scrivi nella query SQL e poi c'è Java, si trova già il risultato precotto. Quindi, se dobbiamo fare operazioni di incrocio pesanti sui dati, farle in Java è più complicato, fare il database è più semplice. Dopodiché pago un peso ogni volta che devo chiedere un'operazione al database, ogni volta in cui devo accedere a un dato in un database, devo pagare un costo che è circa qualche decina di millisecondi. Vedremo all'inizio che siamo più sui 100, ma riusciremo a trovare le tecniche per accelerarla. Quindi fare un query in database, alla fine spendiamo 10, 20, 50 millisecondi. Leggere un dato dalla memoria, dicevamo prima, spendiamo 20, 30, 50 nanosecondi. Da milli a nano ci sono sei ordini di grandezza. Quindi leggere un dato dal database è un milione di volte più lento che non leggere lo stesso dato dalla memoria. E sono tutti ragionamenti di cui dovremmo tener conto quando non avremo 5 dati o 7 tentativi dei numeri, ma ne avremo magari centinaia di migliaia. E cominceremo gradualmente ad avvicinarci. Quindi questi qua sono i pensieri che avremo quando dovremo gestire dei dati ampi. Per ora siamo solo nei primi passi. Allora, dicevamo in Java, la libreria che ci permette di accedere al database si chiama JDBC e le varie classi e interfacce sono definite all'interno di due package, uno che si chiama java.sql e l'altro che si chiama javax.sql perché ci hanno aggiunto della roba in un secondo momento e l'hanno messa dentro javax. Qui ci sono dei link se poi vi serve andare alla documentazione o se più avanti ci servirà andare alla documentazione. A cosa serve JDBC? Perché mi stai raccontando una libreria java, cioè una libreria dello standard java e non mi stai raccontando la libreria con cui accedere a MySQL oppure a Oracle? Perché chi ha progettato java ha detto i database sono tanti, quindi cerchiamo di rendere più facile la vita dei programmatori e rendere un pochino uniforme l'accesso ai diversi database. Se voi andate a basso livello, a livello di rete, di come un programma si può collegare al database vero e proprio, ogni database è completamente diverso dagli altri, proprio nel meccanismo di autenticazione, nel meccanismo di invio delle query, nel meccanismo di scambio dei risultati, cioè a livello di protocollo di rete ognuno si è inventato il suo. JDBC mette un cappello sopra queste cose e dice io ti do un modo uniforme di accedere a vari tipi di database. Quindi che tu ti debba collegare a Oracle, che ti debba collegare a MySQL, che ti debba collegare a Postgres, che ti debba collegare a IBM e DB o quello che vuoi, l'istruzione per collegarti è la stessa, l'istruzione per fare una query è la stessa, l'istruzione per ottenere risultati è la stessa, il formato in cui vedi i risultati sono gli stessi, perché ci pensa JDBC a uniformare queste cose. Quindi uniforma il meccanismo di accesso, di collegamento tra il tuo programma Java e il database. Ciò che non standardizza è il contenuto della query. Cioè se io scrivo un'istruzione in SQL standard, tutti i database grossomodo me la interpretano al stesso modo. Però ogni vendor, ogni produttore di database si diverte tantissimo ad aggiungere delle estensioni, delle sintassi non standard, delle semplificazioni, delle complicazioni, per cui la stessa interrogazione che va bene in un database in un altro può essere errore di sintassi oppure da un risultato diverso, se usciamo da quelle che sono le interrogazioni più semplici o più standard. Tanto per darvi un'idea, se voi andate su questo sito c'è un signore che si è messo con tanta pazienza a fare i confronti in alcune aree particolarmente critiche tra i vari database, tra i principali database. Per cui dice, non so se devo, e soprattutto noi ce ne occuperemo quando vedremo operazioni sulle date, torneremo su questo sito, ma anche solo il comportamento dei tipi di dato nei vari database è diverso. Quindi per ciascun database dice, guarda che rispetto allo standard questo database non supporta questo tipo, quest'altro lo supporta ma è come se fosse un intero e così via. Quindi ogni database ha le sue particolarità essenzialmente. Noi cercheremo di stare lontano da queste particolarità, di rimanere il più possibile sul terreno comune, poi nel nostro corso useremo un database solo, quindi il problema si pone di meno. Però in ottica di scalabilità, se dobbiamo pensare che la stessa query funzioni anche su un altro database, dobbiamo fare attenzione di non aver usato una funzionalità che in quell'altro database è leggermente diversa. E allora come fa questa libreria JDBC a permetterci di accedere a database diversi? Cioè che ne sa chi ha progettato Java di quali sono i database che ci sono al mondo e di come funzionano? E non lo sa infatti. E allora JDBC è organizzato su tre livelli. Un livello JDBC API che è l'interfaccia, le funzioni, le classi, i metodi che servono per comunicare il database. Questo è standardizzato a livello di Java. Java.sql contiene le funzioni, le classi di queste API. Vedremo che in queste API non c'è quasi nessuna classe, sono quasi tutte solamente interfacce. Cioè ci dicono si deve fare così. Però io Java, libreria standard di Java, non posso implementare questa interfaccia perché non so qual è il database con cui lavorerai. Allora c'è il livello basso che prende il nome di JDBC driver, che contengono le classi di implementazione per quelle funzionalità. Come fare a collegare il mio database, come fare a mandare una query, come fare a ricevere un errore, eccetera. E' implementato dentro questo JDBC driver. Queste classi JDBC driver sono tante perché ogni database ha la sua. Se tu usi come database MySQL, chi ha prodotto MySQL ti darà il JDBC driver per MySQL. Se usi il database Oracle, Oracle ti farà scaricare la classe JDBC driver per Oracle. Se usi SQL server della Microsoft, la Microsoft ti farà scaricare il JDBC driver per Microsoft. E quindi questi driver sono tante implementazioni diverse, ma tanto diverse, delle stesse interfacce che sono definite qua sopra. E in fase di connessione, cioè quando noi apriamo il collegamento database, abbiamo una classe intermedia che si chiama driver manager, che carica il driver opportuno per collegarsi al database con cui abbiamo chiesto di collegarci. Con un meccanismo abbastanza semplice. Vai ad analizzare una stringa, capisci quale database vuoi usare e cerca di caricare il driver correlato a quel database. Quindi questa è l'architettura generale. Qui noi troveremo delle interfacce, quale tutto è interfaccia, delle implementazioni in classi che non vogliamo conoscere, non dobbiamo conoscere, la nostra applicazione non deve conoscere queste classi qua sotto, se vuole avere una minima speranza di essere portabile a database diversi. Perché se usassi una classe qua dentro che si chiama com.mysql.qualcosa, di sicuro nella mia applicazione, di sicuro quella classe non ci sarà se usassi un altro database. E quindi lavoreremo esclusivamente con queste interfacce, sapendo che poi sono implementate da un driver sottostante, che specificheremo a livello di linking della libreria. Poi vabbè, questa figura non la commento, dice che questi driver in realtà possono essere implementati in tanti modi diversi, o in Java, oppure a parte in Java, a parte in codice macchina nativo, in C, o cosa del genere, ma sono dettagli che non ci cambiano la vita. Quindi in pratica abbiamo sempre questi livelli, da un lato abbiamo il nostro programma, JavaFX, dall'altro abbiamo il database, che sarà installato o sul nostro computer o su un altro computer, ma concettualmente separato. I due si devono parlare e per parlarsi, devono parlarsi per tramite di un jdbc che implementa l'interfaccia jdbc API e questo driver viene caricato da driver manager. Qui ci accorgeremo subito che useremo tantissime classi e non faremo mai new. Sono tutte classi che usiamo ma non conosciamo e che non le creiamo noi, con un meccanismo, con un pattern che si chiama defectory, cioè chiedo a qualcun altro che costruisca, ma ci arriviamo. Allora in pratica, in pratica tutte le volte che voglio fare una query in un database, devo eseguire questi sei passaggi. Poi in realtà quelli veri sono il 3 e il 4, anzi 3, 4 e 5, mentre l'1, 2 e il 6 sono apri e chiudi la connessione, quindi attiva e termina il collegamento con il database. Allora proviamo a vederlo in pratica. Allora in pratica cosa facciamo noi? Noi lavoriamo con un database che è MySQL oppure MariaDB. L'avete probabilmente già installato. Se usate MySQL la URL ricordatevi di scaricarlo dal sito che si chiama dev.mysql.com e non dal sito www.mysql.com perché in quell'altro sito www cercano di vendervelo. Mentre invece dev è il sito per sviluppatori dove c'è la versione open source. E questo è un database server in cui nella sezione download potete scaricare, si vede anche qua quello che si chiama il community server, la versione community del server database. Oppure usiamo MariaDB, la stessa cosa, da questo bottone download. MariaDB.org perché anche qua c'è una versione .com invece che cerca di vendervi dei servizi associati, altrimenti qui c'è la versione libera, gratuita. Oppure, quindi c'era scritto nelle istruzioni del corso o vi scaricate questo o vi scaricate questo, è lo stesso, non è lo stesso, sono due prodotti diversi. MariaDB è nato dopo che uno degli sviluppatori di MySQL ha litigato con Oracle che sono diventati proprietari del progetto MySQL. Perché non gli facevano fare ciò che voleva, allora ha detto, va bene, sapete cosa, me ne vado, mi faccio il mio progetto parallelo, a un certo punto della versione mi sembra 5.3, ha fatto un fork, quindi una divisione del progetto, è andato avanti con il suo database che si chiama MariaDB. E ora cosa è andato avanti con il suo, che si chiama MySQL, però sono compatibili al 99%. Quindi è una questione quasi più di simpatia o di licenza d'uso che volete usare. Quindi usiamo uno di questi due database, ultimamente se avete una macchina Linux o Mac molto probabilmente avete MariaDB perché si chiama MySQL come nei pacchetti ma dentro c'è installato la realtà MariaDB. e lo installiamo e lo facciamo girare sul nostro computer. Quindi scarico, installo questo, dopo che ho terminato di installare il database non vedo niente. Perché il database non ha un'interfaccia, è un servizio che gira nella macchina. Quindi lo posso vedere, ad esempio qui in Windows tra i servizi, dove ho tutti i servizi di Windows a un certo punto c'è uno che si chiama MySQL. e da qui lo posso eventualmente, è running, sta girando perché l'ho avviato prima, lo posso avviare, stoppare, eccetera. Anche il suggerimento che vi do quando installate MariaDB, magari installatelo in modo che non si avvia automaticamente, se avete a cuore la batteria del vostro portatile. Cioè lo avviate quando vi serve usarlo ma altrimenti l'avvio di Windows è inutile che parta anche lui. Quindi è un servizio che sta lì e non si vede. Ascolta su un determinato login, su una determinata porta e aspetta che qualcuno gli mandi dei comandi SQL da eseguire. Questa è la vita del database. Sta in ascolto dei comandi SQL. Se volete potete anche installare quel pacchetto che si chiama XAMPP, che è quello che userete nel corso di Lioi, che contiene già al suo interno, oltre alla parte web quindi Apache e PHP, contiene anche lui un server MariaDB essenzialmente. E quindi in quel caso se usate XAMPP già sul vostro computer potete lanciarlo non dai servizi, attivarlo non dai servizi Windows, ma dal pannellino di controllo di XAMPP, dove c'è scritto la casalina MySQL, avvia. Start. Poi una volta che il database è partito, cosa ci faccio? Non lo vedo, dovrei dare dei comandi SQL a mano. Allora per semplicità io ho indicato di scaricarvi un front-end grafico per accedere al database. Allora su Windows quello che suggerisco si chiama ID SQL, che è un programmino che ti permette di collegare al database, vedere le tabelle, scrivere le query, testarle eccetera eccetera. Chi usa un Mac invece era suggerito un altro prodotto che adesso non mi ricordo più a memoria, ma c'è il link sul sito del corso, che fa sostanzialmente la stessa cosa. Ci permette in modo interattivo di vedere il contenuto del database e modificarlo, creare le tabelle eccetera. Quindi ad esempio noi possiamo, per fare qualche esempio pratico mentre impariamo le istruzioni JDBC, lanciare ID e collegarci alla versione, MySQL e MariaDB sono sinonimi, che gira su questa macchina locale, 126001 significa il computer locale su cui state lavorando. E ovviamente dovete fornire delle credenziali, le credenziali sono, c'è un utente principale che si chiama root, che è una password che avrete impostato quando avete installato il database. Se quando avete installato il database avete messo una password e non ve la ricordate più, non siete in una buona situazione. Si può fare, si può andare a recuperare, a resettare, ma non è... Io ho messo una password all'utente root e attraverso questa password ho accesso al database che sta girando su questo computer, che contiene già una serie di database che avevo caricato. Quindi, ricordiamoci un po' i concetti del corso di base dati. MySQL è quello che si dice un database management system, DBMS, è il software, che al suo interno contiene tanti database o schema che li vogliamo chiamare. A volte vengono chiamati database, a volte vengono chiamati schema. Cioè, a contesti diversi, ciascuno dei quali può contenere tante tabelle. Quindi ciascuno schema contiene delle tabelle. Ciascuna tabella contiene dei dati organizzati in colonne e ciascuna colonna ha un certo tipo di dato. Quindi, in modo abbastanza semplice, possiamo accedere a vari tipi di database. Allora, noi possiamo provare a costruire un database nuovo, ci mettiamo quattro dati a mano e poi da java cerchiamo di interrogarlo. Ok? E facciamolo magari ripercorrendo l'esercizio del libretto voti. Quindi, creare un nuovo database significa, tasto destro su localhost, crea nuovo database. Do il nome del database che può essere libretto. No, c'è già uno che si chiama libretto, allora lo chiamo voti. E mi è comparso tra gli altri, voi non avrete tutti questi, non avrete quel paio appena installati, ma qui sono tutti i database dell'anno scorso. Ho un database che contiene al momento nessuna tabella. Quindi, la prima operazione che posso fare, dentro, quindi tasto destro su questo nuovo database, crea nuova tabella. Crea una tabella, mi apre questa finestra, quindi host, il server è quello locale. database, voti, tabella, per ora non ha titolo, quindi qua sopra c'è il cammino che ho fatto per arrivare. Il nome della tabella può essere appunto libretto, diciamo, e è composto da, per fare un parallelo di esercizio, da due campi che è il nome dell'esame e il voto che ho preso, no? Quindi le colonne le aggiungo qua sotto, aggiungi una colonna nome di tipo stringa, quindi sarà un... Qui ci sono tutti i tipi supportati da MySQL, il tipo testo è var char, lungo 50 caratteri, va bene. E una seconda variabile è il voto, che invece è un intero. E quindi qui graficamente definisco, sembra un po' di lavorare in access, se qualcuno ci ha lavorato, questa tabella. Finora ho semplicemente lavorato qua nell'interfaccia, il database non è ancora stato modificato. Se faccio save, salvo nel database questa definizione di tabella. Qua sotto c'è una finestra di log essenzialmente, che ricopia tutti i comandi che sono stati dati. Cioè ogni volta che noi facciamo qualche cosa, questo viene tradotto dal programma ID, in questo caso, in comandi SQL che vengono mandati al database. Quindi questo è semplicemente un front-end e noi avremmo benissimo potuto scrivere create table, libretto, nome, var char, voto, eccetera, questa istruzione qua, l'avremmo potuto scrivere a mano e mandarlo al database e avrebbe fatto esattamente la stessa cosa. Infatti qua si vede, possiamo anche quando siamo su una tabella cliccare su create code e mi fa vedere quali sono le istruzioni per creare questa tabella in SQL. Quindi quando non ci ricordiamo la stessa SQL, andiamo a vedere qua, no? E poi in questa tabella possiamo inserire dei dati. Adesso abbiamo una tabella, vediamo il database di voti con una tabella sola che ha zero righe. Rows zero. Possiamo inserirci dei dati dentro, a mano, ad esempio qua vado sulla parte data che mi fa vedere i dati e inserisco dei valori a caso. Quindi premo su insert o sul tasto più, inserisci riga e metto che analisi 1. ho preso 30, metto che chimica, metto sempre il primo anno perché sono quegli incubi che rimangono, no? Prendiamo fisica 1, di solito si prende 21 in quell'esame quando va bene e così via. E vedete che man mano che scrivo, lui sotto fa le insert nel database. Ma non lo devo fare io. Quindi adesso abbiamo un po' di dati, un database con una tabella con un po' di dati dentro. Vogliamo riuscire a leggere questi dati dal programma Java e stamparli. Allora, dicevamo, quali sono i passi per poterlo fare? Beh, il primo passo è mettere in collegamento il programma Java con il database. e per far questo mi serve però il driver JDBC adatto al database che sto usando. Quindi il mio progetto Java deve collegarsi a una classe Java, un jar, una libreria, che scarico dal sito della MySQL che è appunto il driver JDBC per MySQL. Dimmi, c'è una domanda. Sì, sul SQL Pro che usate su Mac si funziona in modo leggermente diverso, ma quando verrà Marcelli a fare l'esercizazione che usa il Mac, avete le due. Io qua ho questo, c'ho quindi. Però si riesce, no? Aggiungere righe. Non riesce, si riesce, si riesce. Per creare un progetto dobbiamo innanzitutto aggiungere a quel progetto la libreria che contiene il driver JDBC di MySQL. Dove lo troviamo questo driver? È una classe che dobbiamo scaricare dal sito di MySQL. La troviamo sotto download, dove ci sono, quindi devmysql.com downloads e tra le varie cose che possiamo scaricare, Allora, se volete il server, scaricate il community server. Io ho scaricato quello di MariaDB, ma è uguale. E se volete il JDBC driver dovete andare sotto MySQL connectors. Connector è il nome che la Oracle ha dato a queste librerie per potersi collegare al proprio database da vari tipi di linguaggi. .NET, Java, JavaScript, Python, C++, PHP, eccetera. A noi serve il connector barra J. Il connector barra J lo potete scaricare, vedete che c'è scritto platform independent, non dipende se usate Windows o Mac o altro perché ha codice Java, puro. E lo potete scaricare come archivio zip, quindi questa voce qua, e vi dà un file zip che io avevo già scaricato, è qua. Vi dà un file che contiene al suo interno una cartella, se lo scompattate, se lo aprite, dentro questa cartella ci sono i sorgenti, perché questo qua è rilasciato in modalità open source, quindi se lo volete vedere come sorgente. ci sono un jar che contiene i sorgenti e un jar che contiene il binario. A noi interessa solo questo. Questo file qua contiene la versione compilata binaria della libreria. Adesso, torniamo su Eclipse. Anzi, torniamo sulle slide. Noi dobbiamo scaricare questo connector J, identificare dentro lo zip che abbiamo scaricato questo file connector java bin.jar, e questo importarlo nel nostro progetto. Ok? Questo progetto, questo jar, contiene tante classi, tra cui una che si chiama com.mysql.jdbc.driver, che è il driver JDBC di MySQL. Scritto al contrario, come sempre. Come facciamo a questo punto a integrare questo nel nostro programma? Allora, innanzitutto creiamo un nuovo progetto in Eclipse. Dove è finita Eclipse? Dimentichiamo per un attimo questo indovina numero. Chiudi tutto. E facciamo un nuovo progetto semplice, java, per ora, e lo chiamiamo vuoti database. Questo programma vuoti database, poiché si deve collegare al database, deve avere accesso alle librerie JDBC. Quindi tra le proprietà del progetto, nel build path, quindi dove ci sono le librerie a cui lui ha accesso, adesso lui vede solamente la libreria standard, devo aggiungerli anche la libreria JDBC. Allora, il modo più semplice di aggiungere la libreria, perché io qua potrei aggiungere la cartella in cui si trova questo file che ho scaricato. Poi però si è sposto il progetto su un altro computer, non è detto che si trovi nella stessa cartella sull'altro computer e quindi non la trova. Allora, la cosa più semplice, tanto lo spazio sul disco non costa, è dentro il progetto ci facciamo una cartella, chiamiamola lib, e dentro questa cartella copiamo questo file. Adesso siamo dentro uno zip, quindi vediamo se funziona, ma mai più se funzionerà. Sì, funziona. Eh no, infatti no. Devo prima scompattarlo. Devo prima aprire, scompattare lo zip. Anche se non mi serve, e poi da qua dentro dovrò prendere questo bin. Questo file bin me lo copio dentro Eclipse, dentro il progetto di Eclipse. Lui mi dice, ma vuoi copiarlo o vuoi mettere un collegamento? No, lo voglio copiare perché così il progetto non dipende più dalla cartella in cui avevo salvato l'altro file. E quindi dentro questo libreria, qui ho semplicemente salvato un file dentro una cartella del progetto di Eclipse. Adesso devo dire che questo file in realtà è una libreria che voglio collegare al progetto. Per ora è semplicemente salvato lì, non fa parte del progetto. Allora, per farlo, se selezionate questa, visto che è un jar, lui lo riconosce come tale. Testo destro, build path, add to build path. Cioè aggiungi questa libreria qua, questo jar, al percorso di creazione del progetto. Allora vedete che Eclipse ha aggiunto una voce librerie collegate che contiene questo connector J. E quindi nell'elenco del build path completo del progetto, avete sia la libreria standard che il MySQL connector. Quindi questa è l'operazione preliminare da fare appena creiamo il progetto. Copiamoci dentro il connector. Aumentiamo la dimensione del progetto di un mega, ma pazienza. A questo punto possiamo creare una classe, chiamiamola testDB, col suo bravo main. E dentro questa classe proviamo a testare questo accesso al database. Quindi adesso abbiamo un progetto con una classe main e l'accesso alla libreria JDBC. La prima cosa che dobbiamo fare è dire al driver manager, che è la classe di libreria JDBC che è in grado di caricare il driver per lo proprio, perché il driver ce l'abbiamo nel progetto ma bisogna caricarlo, dire a che database dobbiamo collegarci. E questo lo facciamo definendo una stringa di connessione. No? Che ha questo formato. Quindi noi nel nostro progetto dobbiamo definire una stringa, fatemela chiamare JDBC URL, quindi è l'URL di connessione a una risorsa JDBC, che è fatta in questo modo. JDBC due punti. E fin lì capiamo tutti il perché. Poi dopo i due punti c'è il nome del database o il nome in codice del driver di database, per essere più corretti, che intendiamo usare. Nel nostro caso MySQL. se anziché MySQL usassimo Oracle ci sarà un'altra stringa, mi sembra che si chiami OC9, OC9, qualcosa del genere. Ogni vendor di database si sceglie una parola chiave che identifica il suo database ai fini del driver JDBC. da questo punto in avanti la sintassi di questa stringa che stiamo costruendo è specifica del singolo database. quindi per MySQL si usano una sintassi, per ora se ne usano un'altra, per IBM se ne usano un'altra ancora e così via, per Postgre se ne usano un'altra ancora. Nel caso di MySQL la sintassi è barra barra host slash database e poi le credenziali d'accesso. Quindi è abbastanza semplice, JDBC MySQL barra barra, local host o 127.001 uguale, cioè vuol dire voglio collegarmi all'istanza di database che sta girando sul mio computer. Il nome del database, il nome del database è vuoti. Le credenziali d'accesso, punto interrogativo user uguale root e commerciale password uguale root. Così vedete tutti bene in chiaro la password che ho usato. Ho scelto il password più sbagliato che potevo usare. Quindi questa stringa identifica la connessione al database. Alla fine bisognerà spesso cambiare solamente il nome del database sui vari esercizi che faremo, ogni volta ci sarà un database diverso con cui collegarsi ed eventualmente se cambiate computer la password con cui avete configurato il server. In installazioni vere e proprie nessun programma usa l'utente root di database, non è il root di Unix, questo è un utente fittizio del database ma si crea un utente che abbia il privilegio di accesso solamente al database che gli servono o alla tabella che gli servono. Ma qui non stiamo a impazzire su questi aspetti. Ok, quindi il primo passo è risolto. Ho costruito una stringa di connessione che abbia tutte le informazioni per potermi collegare. jbdc.mysql, localhost, slash nome del database, punto interrogativo user uguale root e commerciale password uguale root, se l'avete messo, oppure nessun campo password se non avete messo la password. se avete deciso, XAMPP fa così, definisce l'utente root senza nessuna password e quindi il campo password non ce lo dovete proprio mettere. fatto questo, uso il driver manager per aprire una connessione. Quindi il driver manager gli do in pasto questa URL dicendo, caro driver manager, questo qui è l'indizio di connessione, apri un collegamento col database. Quindi è abbastanza semplice. Il driver manager mi restituisce un oggetto di tipo connection, connection, occhio eh, java.sql.connection. Come sempre gli oggetti connection ce ne sono sempre mezza famiglia, mai scegliere tra le classi com.mysql. perché quello bloccherebbe il programma a funzionare solamente con MySQL. Usiamo sempre le interfacce java.sql. Quindi java.sql.connection, l'oggetto connessione che rappresenta la connessione tra il mio programma e il database, lo ottengo dalla classe driver manager, java.sql.driver manager, attraverso il suo metodo statico get connection, a cui passo come parametro la JDBC URL. URL. Ok? Quindi chiedo al driver manager, che è quello che sta in mezzo, tu guarda questa URL, se sei in grado di caricare un driver JDBC e chiedere a quel driver JDBC, di MySQL in questo caso, di aprire una connessione con questo database che gira sul localhost, su questo DB e con queste credenziali di accesso? Se si restituisci un oggetto connessione. Perché è rosso? È rosso perché... Perché fa male. Fa sempre male, qualunque operazione di input output può fallire. Fallisce perché il server è spento, perché il localhost non lo trova, perché la password è sbagliata, per un miliardo di milioni di motivi. Quindi abituiamoci che ogni volta che facciamo un'operazione coi database, questa potrà sempre sputare una SQL exception. Quindi tutte le operazioni di database saranno sempre in un bellissimo try catch che dice se va tutto bene fai l'operazione, se no cerca di capire che non è andato storto. Quindi adesso è più contento perché questa eccezione viene tracciata e poi ovviamente per ora viene solo stampata. E con questo oggetto connessione possiamo effettivamente parlare col database. La connessione io me la immagino come un tubo che collega il mio programma con MySQL, col database. Questo era il passo due. Vabbè, questo è l'esempio. Vabbè, non approfondiamo, si potrebbe semplificare con un try with resources per la chiusura automatica. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo un programma, application, questo è il nostro programma, che ha usato driver manager, chiamato il metodo getConnection, per ottenere un oggetto di tipo connection. Questo oggetto di tipo connection in realtà non è stato creato dal driver manager ma è stato creato dal driver MySQL. Quindi noi abbiamo creato un oggetto driver MySQL senza mai conoscerlo. Non l'abbiamo creato noi, l'ha creato driver manager. e poi driver manager ha chiesto a questo driver di creare un oggetto connessione che ci è stato restituito. Quindi noi abbiamo connection, guardate la iBlue, è un'interfaccia solamente, non è una classe. Io non so quale sia la classe concreta che chi ha fatto il driver JDBC abbia usato per implementare la connection. Io lavoro solo con l'interfaccia. Quindi ho chiesto a un oggetto che non conosco, che è il driver JDBC, di crearmi un oggetto di una classe che non conosco ma che rispetta una certa interfaccia. Quindi sto creando oggetti senza fare new. Perché non voglio fare new? Ma perché per fare new tu devi sapere il nome dell'oggetto da creare, il nome della classe da creare. Noi non lo sappiamo, non la vogliamo sapere questa classe. Perché vogliamo che il programma lo scopra dinamicamente a seconda del database a cui si collega. e quindi mi servo di classi di ausilio per costruire classi al posto mio. Questo pattern si chiama factory, factory come fabbrica. Cioè il driver manager è una factory, diremo così, che il driver manager ha dentro una factory di connessioni. Mi crea un oggetto connessione per me, mi crea un oggetto di un certo tipo di oggetto che non conoscerò mai ma saprò che implementa l'interfaccia connection. Se voi provate a fare new connection non ci riuscite perché dice no, no, caro, connection è un'interfaccia, non è una classe, non lo puoi creare tu. Devi creare un'implementazione concreta di questa interfaccia che c'è dentro la classe, dentro la libreria JDBC. Sì, qua dentro, se andate a cercare, c'è connection, credo. Sì, connection.class. Ma non lo voglio sapere. Io non voglio fare un programma che funzioni con MySQL, con le classi di MySQL. Voglio fare un programma che funzioni in generale usando la stazione JDBC. Ok, passo avanti. Dopo il passo 2, vi metto già subito il passo 6. Apro una connessione, la devo chiudere. Lo metto subito perché poi se no ci perdiamo nelle query e ci dimentichiamo di farlo. Quindi, abituate neanche la vostra mente, direttamente le vostre dita, nel momento in cui scrivete get connection, subito scrivete close. e poi il resto ce lo scriveremo in mezzo. Apro una connessione, chiudo la connessione. Cosa capita se non dovessi chiudere la connessione? Capiterebbe che quella connessione rimane aperta. Poi dopo un po', visto che è una connessione su TCP e IP, va in time out e si chiude da sola e muore da sola. Ma dopo un po' sono magari 20 minuti. Allora voi fate un programma, lo lanciate, si pianta, vi dimenticate di chiudere la connessione, lo rilanciate, lo rilanciate ancora un po', e lato MySQL, lui non sa che il vostro programma si è piantato, lui ha visto una connessione aperta, latina aperta, un altro programma gli chiede un'altra connessione, l'apre, un altro programma gli chiede una connessione, l'apre, a un certo punto si accumulano 20, 30, 50 connessioni aperte, e MySQL dice basta. Hai raggiunto il numero massimo di connessioni aperte e quindi non accetto connessioni nuove. Quindi voi mi dite ma dopo che ho provato 3-4 volte non funziona, o 30-40 volte magari non funziona più. Eh, di solito perché ci sono delle connessioni che sono rimaste appese, perché non le avete chiuse o perché il programma è crashato prima di chiuderle. A quel punto, un bel riavvio di MySQL che chiude e riapre tutto, sana la situazione, no? Però impariamo solo a riconoscere la situazione. Quando il gate connection fallisce, dopo un po' fallisce, ma all'inizio no, è perché le connessioni le abbiamo lasciate aperte e non le abbiamo chiuse, non le abbiamo restituite. chiuso parentesi. Il vero passo successivo è, adesso ho il tubo, il canale che permette al programma di parlare col database, e beh, facciamo una query. Allora la query viaggia all'interno di una navetta, no? Io mi immagino su questo tubo delle navette che vanno avanti e indietro. Ciascuna navetta è un'interrogazione diversa. La navetta può portare l'interrogazione quando fa il viaggio di andata, oppure può portare i risultati quando fa il viaggio di ritorno. Ma sulla stessa connessione, per questo che io uso questa metafora, possono viaggiare tante navette diverse, in tempi diversi. non ho bisogno di una connessione per ogni query. Su quella connessione posso far viaggiare tante query diverse. Queste navette si chiamano Statement. Statement SQL. Quindi, come facciamo ad ottenere una navetta? Beh, me la faccio dare dalla connessione, me la faccio creare dalla connessione. Di nuovo, uso la connessione come factory di Statement. Quindi, creo uno Statement, che è un oggetto di tipo, guardate quanti ce ne sono, prendiamo quello giusto, java.sql.statement, me lo faccio dare dalla connection create Statement. Quindi, chiedo la connessione, creami uno Statement. Quindi, creami una barchetta, una navetta, che possa andare avanti e indietro su questa connessione specifica. Noi vedremo poi che, anziché la classe Statement, preferiremo usare una classe che si chiama Prepare Statement. Ma non ce la facciamo ancora oggi. Quindi, adesso lo vediamo come l'esempio più semplice che si possa fare, ma poi subito dopo diremo Statement non bisogna usarlo, bisogna usare sempre Prepare Statement. Ma concettualmente, in realtà, sono la stessa cosa. Una navetta un pochino più robusta, il Prepare Statement. A questo punto, su questa Statement, posso eseguire delle interrogazioni. Posso caricarle un'interrogazione su questa navetta e mandarla. C'è un metodo che si chiama Execute Query sullo Statement. Quindi, una volta che ho questo Statement, definisco l'interrogazione che voglio fare. Ad esempio, noi avevamo questo nostro database di prova. L'interrogazione che voglio fare potrebbe essere... No, qui c'è una finestra di query in cui posso scrivere... Qui lo devo scrivere a mano. Nelle SQL non è che posso... Che non so... Select... Id... No, non è... Si chiamava nome... Va per vedere. Nome vuoto. Nome, virgola vuoto. From... Libretto. E se lancio questa query, me le metto così. Posso dire, magari farmele ordinare... Tanto per fare una query un pochino più... Vuoto. Decrescente. 30, 28, 21. Immaginiamo di voler fare questa interrogazione. Possiamo usare ID o il frontend database per interattivamente cercare di comporre la query che ci serve. Quando ci piace, la prendiamo e la trasportiamo di là, sotto forma di stringa. Quindi sta roba qua, copia e incolla... Adesso a me è funzionato bene perché c'è un'impostazione di Eclipse che dice quando incolli una stringa su più righe, metti a posto il chiuso e virgolette più e con catenala su più righe. Altrimenti non dovete aggiungervi a mano questi virgolette e questi più. La cosa importante è questo spazio che c'è qua in fondo. Perché se io dimenticassi questo spazio, creerei un'istruzione SQL errata perché ci sarebbe scritto VOTO FROM tutto attaccato quando le stringhe si concatenano. Questo a capo è assolutamente visuale qua. Poi vi trovate un errore di sintesi nella stringa e dite ma come? Era qua, era giusta e di là è sbagliata. E' perché magari ci siete dimenticati questo spazio. E' un po'... bisogna prenderci l'abitudine. Io però alla fine posso scriverla così, posso scriverla di fila in una riga sola. Non cambia niente, la sintesi della SQL non è sensibile agli a capo. Ho la stringa che voglio eseguire. Il comando SQL che voglio eseguire. E per eseguirlo lo posso chiedere a questo punto allo statement. Chiedo al caro statement puoi eseguire questa query? Quindi ho aperto una connessione. Dalla connessione mi sono fatto dare uno statement. Dentro lo statement ho inserito una query, che è semplicemente una stringa scritta in SQL corretto. E dico lo statement esegui la query. A questo punto, in questo momento, il mio programma Java sta mandando questo testo in SQL al database. Il database lo esegue subito dopo, se tutto va bene, se non ci sono errori, e manda indietro i risultati. I risultati vengono restituiti sotto forma di un oggetto che si chiama result set. Result set nuovamente è un oggetto Java SQL result set. Di nuovo, creato C dallo statement. Quindi il driver manager ci dà la connessione, la connessione ci dà lo statement e lo statement ci dà il result set. È una concatenazione di oggetti così. Questo result set contiene i risultati della mia query. Che, se tutto va bene, dovranno essere questi. Come li contiene però? Allora, qui c'era solo, ricopitoliamo le classi. La nostra applicazione ha chiesto la connessione a uno statement. Grazie allo statement ha chiesto lo statement un result set. e questo result set deriva dall'esecuzione effettiva della query sul database. L'altra cosa le guardiamo la prossima volta. Adesso, cosa me ne faccio di questo result set? Il result set contiene i risultati della query. No, non è vero. Non contiene i risultati della query. Contiene un meccanismo per poter ottenere i risultati della query. Perché mi devi complicare la vita? Perché la query magari ha come risultato 10.000 righe. Vuoi mica che te le restituisca tutte in blocco? Quando magari ti servono solo le prime tre? O non ti servono tutte insieme? Sarebbe altamente inefficiente far sì che una query restituisse, quindi riportasse indietro sulla rete dal database verso il programma Java, tutti i risultati sempre. Allora, l'oggetto result set implementa una sorta di finestra, viene chiamata cursore, sulla tabella dei risultati. In ogni momento questo cursore è posizionato su una riga della tabella dei risultati. Chiaramente ogni query nella sequela genera sempre una tabella di tot righe, tot colonne a seconda della query, no? Ogni cursore in un certo momento è in una certa posizione. Result set, come classe, ha due tipi di metodi. Una famiglia di metodi per spostare il cursore. Dalla prima riga va alla seconda, alla terza, alla quarta, torna indietro, eccetera. Una seconda famiglia di metodi per leggere i contenuti delle celle, cioè delle singole colonne, limitatamente alla riga sulla quale si trova il cursore in quel momento. Quindi io cosa dovrò fare? Mettere il cursore sulla prima riga e leggere la prima, la seconda casella della prima riga. Poi mettere il cursore sulla seconda riga e leggere la prima, la seconda casella, che corrispondono alle colonne della tabella, della seconda riga, e così via. Questi metodi per leggere i singoli valori si chiamano, sono dei getter, get e poi sono getInt se la colonna è di tipo intero, getString se la colonna è di tipo testo e così via. GetDate, getBoolean, che ti legge una colonna di cui conosci il tipo di dato. Questo su una riga sola. Se voglio passerò la riga dopo, faccio avanzare il cursore col metodo next, lui mi porta sulla riga dopo e sulla riga dopo farò di nuovo un getInt del voto, un getString del nome dell'esame e mi restituirà un risultato diverso. Come si muove questo cursore? Il cursore è posizionato sempre su una riga della tabella, ma dobbiamo sempre immaginare che a ogni tabella di risultati ci siano due righe immaginarie in più. Una riga che è prima della prima riga, before first, e una riga che è dopo l'ultima. Il cursore viene inizialmente posizionato prima della prima riga, quindi su una riga immaginaria. Quando voi fate un result set, il cursore si posiziona qua, su una riga che non esiste ancora. Quindi per poter leggere la prima riga dovete almeno fare una volta next. per portarvi dalla riga prima della prima, alla riga prima effettiva. Non è malato di mente chi ha inventato sta roba. Dice, ma perché non lo potevi posizionare sulla prima riga il cursore? Perché non è detto che la prima riga ci sia. Quando faccio una query nel SQL può darsi che il risultato abbia zero righe. Allora se io ti dicessi, ti posiziono il cursore sulla prima riga, se non avessi zero righe ero obbligato a darti un'eccezione. E di sezione ne abbiamo già le scatole piene. Perché in realtà non è un errore avere zero risultati, può venire. Allora hanno inventato questo spazio neutro, questo limbo prima della prima riga che c'è sempre. Anche se la prima riga non c'è, il posto prima della prima riga c'è. E lì posiziono il cursore. Poi vado sulla prima riga, next. Next vado sulla seconda, next vado sulla terza. A un certo punto se sono sulla terza riga faccio ancora next e mi posizionerò dopo l'ultima riga. Che è un altro spazio limbo immaginario su cui il cursore si può posizionare. Quando arrivo lì mi accorgo che la tabella è finita. Quindi in pratica come lavoro? Di solito il codice che scrivo sarà qualcosa di questo genere. while res.next Fai qualcosa con la riga. Perché non funziona? Un ciclo while res.next è un ciclo while innanzitutto. Quindi come prima cosa valuta l'argomento. Quindi come prima cosa chiamo la funzione next. Quindi appena arrivo lì il cursore dalla riga prima della prima arriva alla prima riga vera. Il metodo next del result set restituisce bla 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 true se la nuova riga corrente è valida, cioè esiste ancora, falso se non ci sono ulteriori righe. Quindi quando non ci sono più righe da elaborare questo next ritorna falso e io esco dal while. pulito, siamo contenti, l'abbiamo progettato bene, non dobbiamo fare casino per entrare e per uscire. Adesso dentro il ciclo, il ciclo viene iterato una volta per ogni riga effettiva. quindi io da questa riga posso sapere che il nome dell'esame lo posso chiedere a result set getString e il metodo getString riceve come parametro il nome della colonna del database, cioè questo nome. così come il voto lo posso ottenere con un getInt dandogli il nome della colonna che si chiama voto. è ovvio che sono io che devo garantire che questo nome di colonna sia lo stesso che ho nella query, perché se nella query la colonna non c'è è inutile che gliela chieda, mi dà l'errore. questo voto è questo. Quindi i nomi di colonna sono quelli di solito che arrivano dalla causal select dell'interrogazione. e una volta che ho questi dati ne faccio ciò che voglio, creo un oggetto voto, lo metto in una lista, lo stampo. Adesso per rapidità possiamo stamparlo sulla console. in cui possiamo dire che ho preso il voto %d dell'esame %s, a capo, il voto è voto, l'esame è nome. Poi qui ho finito. Questo statement mi ha dato ciò che poteva darmi, quindi posso anche chiudere lo statement. dicendo al database, guarda, l'elaborazione che hai fatto per questa query puoi cancellare, puoi liberare la tua memoria, liberare le tue risorse, perché tanto non mi serve più questo risultato. Quindi lo statement viene creato qui e distrutto qua sotto. Nel frattempo è servito per fare un'interrogazione. l'interrogazione viene, il lavoro del database lo fa qui. E noi con calma, scorrendo il cursore e prendendo i dati di ogni colonna, andiamo ad acquisire i dati risultanti da questa query. A questo punto potremmo ricominciare da capo. Cioè qua sotto potremmo creare un altro statement, fargli un'altra query, eccetera, eccetera. Questo statement è finito, è finito il suo lavoro. Allora, bello da raccontare, vediamo se funziona. Mi stupirei che funzionasse il primo colpo. Ha funzionato il primo colpo. Ok, qui abbiamo stampato con questa system.out una riga per ogni iterazione del ciclo while. Poi di solito non faremo così, di solito dentro questo ciclo while creeremo una lista di oggetti. Creiamo un oggetto di tipo voto, new voto con un nome virgola voto e lo facciamo add a una lista, in modo che poi alla fine abbiamo effettivamente, non solamente stampato video, ma ci siamo salvati, ci siamo letti e memorizzati la lista di voti. Le basi sono queste. Ovviamente dipende tutto dall'interrogazione che facciamo, i dati che otteniamo, e dipende tutto da che cosa ce ne facciamo, in questo caso sono stampati, ma che uso facciamo dei dati che abbiamo letto. Ma ogni volta il pattern è lo stesso. Adesso ovviamente noi non costruiremo dei programmi dentro il main di un esercizio di prova. Dovremmo riuscire a trovare nella nostra architettura JavaFX il posto giusto in cui fare la connessione, il posto giusto in cui fare la query. Quindi dovremmo darsi un minimo di regole in più per poter gestire questa cosa a livello di architettura del programma. E poi dovremmo proteggerci da eventuali errori di immissione dati, eccetera, che potrebbero influire sulla query. Quindi questo è, se vogliamo, l'informazione grezza di base. La settimana prossima lo riprendiamo e cerchiamo di robustirla un po' per darci poi un pattern di lavoro solido per il seguito. Tanto questo laboratorio di database non ci sono ancora, saranno per la prossima. Ok. Buona serata a tutti e ci vediamo lunedì. Ciao. 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 Ciao.